Fratelli e sorelle, oggi voglio parlarvi di alcune altre cose da chiedere in preghiera al Signore. Innanzitutto cominciamo col fatto di parlare di che cosa è la preghiera. La preghiera è la comunicazione dell'uomo con Dio, quindi l'uomo comunica con Dio soprattutto, non soltanto, ma soprattutto attraverso la preghiera. Perché quando un credente o chiunque, anche se non è credente, si mette a pregare Dio, si rivolge a Dio, va a Dio, è come se si presentasse davanti a Dio a comunicare delle cose al Signore. Quindi è una comunicazione, è un modo che l'uomo ha per comunicare con Dio. Quando si va a Dio, si espone tutto quello che uno è, cioè se uno ha delle difficoltà, dei problemi, delle paure, qualsiasi cosa, qualsiasi problema uno abbia, è bene che in preghiera lo vada ad esporre, ad esporre al Signore. Perché già parlandone col Signore sicuramente qualche cosa la riceverà da lui, una benedizione, una liberazione dal timore, l'esaudimento di determinate richieste di cui ha bisogno. Chi va in preghiera davanti a Dio riceverà il premio che Dio avrà preparato per lui, per quella preghiera. Perché, come è scritto nella preghiera del Padre Nostro, che Dio darà il premio a coloro che pregheranno con tutto il cuore sinceramente. Non per farsi vedere, per farsi sentire dagli uomini, per darsi gloria, non per questo, ma se uno lo fa sinceramente, di pregare Dio, riceverà una ricompensa, una ricompensa da Dio. Bisogna andare a perseverare, bisogna perseverare nella preghiera rivolta a Dio e bisogna anche pregare in un certo modo. Ad esempio, bisogna pregare con tutto il cuore. Quando uno va a pregare Dio, non è che ripete delle parole a memoria come fanno i cattolici romani, ad esempio. Ripetono delle preghiere lette o imparate a memoria, ma il cuore è lontano da quella preghiera. Quindi, quando noi andiamo a pregare Dio, dobbiamo partecipare con tutto il cuore, ma anche con un atteggiamento del corpo. Quindi noi dobbiamo andare a Dio, a pregare Dio, con tutta la nostra anima e anche con tutto il nostro corpo. Quindi un giusto atteggiamento per rivolgersi a Dio in preghiera è quello di pregare in ginocchio. Quindi è importante anche quello di pregare in ginocchio. Ci sono quelli che non possono, o sono anziani o hanno problemi alle ginocchia o altre problematiche, non ti permettono di pregare in ginocchio, allora sei giustificato. Ma se uno è giovane, è sano, non ha problemi, ogni qualvolta, ogni qualvolta che si mette a pregare, deve mettersi in ginocchio. Adesso non è che se uno prega in ginocchio anche per il mangiare non è sbagliato, però se uno per il mangiare ringrazia il Dio seduto, si alza in piedi, non fa niente. Va bene, va bene anche che lo faccia in quella maniera, l'importante è che lo faccia. Però quel momento particolare durante la giornata, che uno si ritaglia del tempo nella giornata per poter andare a Dio a esporgli tutte le cose che riguardano la sua vita, le sue richieste, i suoi desideri, le sue difficoltà, quando va a esporre tutte queste cose al Signore, è bene che lo faccia in ginocchio, perché così hanno fatto Gesù gli apostoli e i profetti. Quindi è bene che lo facciamo anche noi tutti, che lo facciano anche tutti quelli che hanno creduto nel Signore, che quando vanno in preghiera lo facciano in una determinata maniera. Ora passiamo a ricordare alcune cose che la scrittura ci insegna che dobbiamo chiedere in preghiera, cose che dobbiamo chiedere al Signore in preghiera. Alcune cose, non è che sono tutte, non è che uno chiede solo quelle cose che ora vi andrò a ricordare, ma sono alcune delle cose, altre studiando le scritture si impareranno e si procederà a chiederle al Signore. Cominciamo con la preghiera del Padre Nostro, dove lì ci sono diverse cose che si devono chiedere al Signore, e quindi è buona cosa studiarsi bene la preghiera del Padre Nostro. Ci sono delle cose, è stata insegnata da Gesù quella preghiera per insegnarci a pregare, quindi è fondamentale. Uno che vuole imparare a pregare deve partire per forza di cose da questa preghiera, dalla preghiera conosciuta come quella del Padre Nostro, perché bisogna studiare la sua struttura e cercare di copiarne la struttura, non esattamente magari le parole, se uno la vuole recitare anche con il cuore, ma a memoria può farlo, non è che questo è vietato, dico questo perché alcune denominazioni hanno vietato, ho sentito anche che qualcuno ha vietato di recitare, di pregare come citando le parole esatte della preghiera del Padre Nostro. Ebbene no, se è scritto che bisogna pregare così e uno prega così mica sbaglia, fa bene, poi la partecipazione del cuore, quella è richiesta, quella è necessaria, quindi se c'è anche una partecipazione del cuore e si prega come è scritto nella preghiera del Padre Nostro, fa bene. Ora andiamo a leggere la preghiera del Padre Nostro che ci sono alcune cose che vorrei farvi notare da mettere nella lista delle cose da chiedere al Signore, che uno si deve ricordare di chiedere queste cose. Matteo 6 dal versetto 9 Voi dunque pregate così Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno. Vedete, sono tre cose qui che voglio estrapolare per citarvele affinché le segnate come cose da chiedere. Dacci oggi il nostro pane quotidiano quindi tutto ciò che ci è necessario lo dobbiamo chiedere quotidianamente al Signore. Il pane quotidiano, i vestiti, qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno quotidianamente è bene che sia chiesto al Signore che il Signore vuole che gli venga chiesto vedete il Signore lo sa che abbiamo bisogno di mangiare il Signore lo sa che abbiamo bisogno di vestirci Lui lo sa uno potrebbe dire ma se Lui lo sa perché glielo dobbiamo domandare glielo dobbiamo domandare perché così mostriamo fede in Lui mostriamo dobbiamo andare a Lui abbiamo bisogno di Lui e ci umiliamo davanti a Lui. quindi umiliandosi davanti a Lui Lui provvede tutto ciò di cui abbiamo bisogno anche se Lui le cose le sa prima che gliele domandiamo gliele dobbiamo domandare lo stesso perché così Egli ha stabilito e così vuole che noi facciamo se noi facciamo come Lui ha detto manifestiamo fede nella parola che Dio ha detto capite? è una manifestazione tra le altre cose è una manifestazione di fede nella parola che Dio ci ha detto Gesù ha detto di chiederlo noi lo chiediamo stiamo credendo in quello che Gesù ci ha detto perché se non ci crediamo non lo chiediamo quindi è importante anche con la preghiera si manifesta la fede che uno ha nella parola di Dio e nelle cose che il Signore ci ha comandato di fare quindi una delle cose è chiedere il pane quotidiano da mangiare tutte le cose che abbiamo bisogno giornalmente poi c'è anche rimettici i nostri debiti sì perché noi tutti i giorni possiamo anche commettere delle cose che dispiacciono al Signore sono dei peccati anche quelli che ci sono occulti cioè ci sono dei peccati che noi commettiamo ma non sappiamo di averli commessi però li abbiamo commessi ecco quando andiamo in preghiera noi chiediamo che il Signore ci perdone di tutti i peccati che abbiamo commesso anche di quelli che ci sono occulti quindi anche questo è una cosa buona che dobbiamo fare davanti al Signore dobbiamo chiedere anche questo è il Signore che è misericordioso e lo ha promesso mediante il sangue di Gesù Cristo i nostri peccati ci vengono rimessi ci vengono purificati quindi una volta confessati a Dio e richiesta richiesta la richiesta la il perdono e la purificazione ci vengono ci vengono perdonati e purificati quindi non gravano più sulla nostra coscienza e sulla nostra anima ci tengo a dire che i peccati che noi abbiamo commesso e abbiamo chiesto perdono ci sono stati purificati e non ce li dobbiamo più ricordare è importante questo perché il maligno tende a ricordarci i peccati vecchi per turbare la nostra anima quelli che sono stati perdonati che facevamo prima di convertirci che abbiamo commesso anche dopo convertiti ma il Signore ha mostrato di averci perdonato quelli non dobbiamo più ricordarli basta finito quindi quando il maligno attacca su questo punto voi dovete sapere che non sono stati perdonati dovete ricordarvelo questo però è anche importante sapere che se abbiamo commesso dei peccati di cui non abbiamo chiesto ancora perdono quelli ancora non sono perdonati ecco perché rimettere i peccati deve diventare una cosa la richiesta a Dio di rimetterci i peccati come il pane quotidiano deve diventare una richiesta giornaliera perché tutti i giorni noi possiamo mancare in qualcosa perché non solo è peccato trasgredire i comandamenti di Dio è altrettanto peccato come dice Giacomo chissà fare il bene e non lo fa commette peccato vedete quindi proprio il peccato si allarga enormemente la possibilità di peccare è chiaro che bisogna distinguere tra peccati di una certa gravità e peccati di un'altra gravità una cosa è un cattivo pensiero un'altra è uccidere una persona rubare commettere adulterio fornicazione capite sono cose distinte se uno magari fa un cattivo pensiero è una cosa se uno gli esce una parola sbagliata è una cosa ma se uno commette proprio dei peccati più gravi questo non va bene quindi bisogna sempre considerare la gravità dei peccati tenere sempre conto anche quando si vedono gli altri fratelli che peccano che sbagliano bisogna sempre pesare la gravità di quello che stanno commettendo non bisogna trattare tutti nello stesso modo quindi fratelli e sorelle nel Signore è cosa buona che ogni giorno ci rivolgiamo a Dio per chiedere la remissione dei peccati affinché tutti i peccati siano rimessi quelli che ci sono già stati rimessi quelli non è che dobbiamo ridomandare la remissione capite solo di quelli che ancora non sono stati rimessi che sentiamo che non siano rimessi ma quelli che sentiamo che la remissione è già avvenuta che è già avvenuta non c'è bisogno non c'è bisogno di richiedere ancora quel perdono di quei peccati perché il Signore ce li ha perdonati sono stati lavati e non si ricorda più di quei peccati e non ce lo dobbiamo ricordare neppure noi perché qui è importante questo ci tengo a sottolinearlo in maniera particolare perché perché sui nostri peccati lavora molto il diavolo nella nostra mente che quando sbagliamo ci vuole far capire che noi non siamo adatti al regno dei cieli che noi non siamo degni del regno dei cieli che il Signore non ci vuole più quindi non ci perdonerà più quindi tutte queste macchinazioni del diavolo devono scomparire devono scomparire dalla nostra mente non le dobbiamo lasciare lavorare nella nostra mente ma devono scomparire perché il Signore ha lasciato scritto che dobbiamo confessare i nostri peccati e siccome il Dio è fedele e lo ha promesso che ci se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da rimetterceli questa è una verità assoluta come sono verità assoluta e le altre che sono scritte nella parola quindi anche questa ce la dobbiamo ricordare sempre in maniera che respingiamo ogni attacco che si può presentare da parte del maligno un'altra cosa importante che c'è scritto nella 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 preghiera del Padre Nostro in Matteo 6 abbiamo letto c'è anche quella che bisogna pregare giornalmente non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno cosa vuol dire questo questo è importante perché chiedendo questa cosa giornalmente noi ci ricordiamo che siamo in guerra noi ci ricordiamo che stiamo combattendo contro il maligno e contro il regno delle tenebre il maligno il regno delle tenebre gli spiriti immondi ci attaccano per farci cadere pongono davanti a noi quelle cose che vorrebbero farci inciampare e farci cadere e noi ci prepariamo in preghiera andiamo a Dio e diciamo signore non ci esporra la tentazione ma liberaci dal maligno quindi liberaci da tutte quelle macchinazioni del diavolo liberaci da tutte quelle trappole che il maligno ci mette davanti affinché noi cadiamo inciampiamo e magari roviniamo anche la nostra buona testimonianza vi faccio un esempio se uno se il diavolo mette davanti a noi una prostituta e poi uno va con quella prostituta come poi è successo una volta vi racconto questo un credente andò via dalla Sicilia in un paese del nord Italia tanti anni fa questo e allora essendo lontano da casa dove nessuno lo conosceva lui a casa aveva una buona reputazione nel suo paesino piccolo in Sicilia una buona reputazione di credente zelante tutto allontanato si è fatto cattive amicizie e l'hanno spinto ad andare a prostitute che cosa è successo che è andato con una prostituta ma sapete cosa è successo quella prostituta era una prostituta originaria del paese di dove era lui solo che lui non lo sapeva una volta che ha consumato il suo peccato questa donna malvagia è andata nel suo paesino e lo ha svergognato davanti a tutti questo cosa ci fa capire attenzione perché noi possiamo avere la sensazione di di nasconderci di commettere il peccato che nessuno ci veda ma noi non sappiamo mai come come in realtà poi possa avere lo sviluppo la commissione di determinati peccati quindi stati attenti stiamo tutti attenti perché una volta che commettiamo determinati peccati qui non si sta parlando di un cattivo pensiero di cose di di gravità minima tutto il peccato è peccato però ci sono cose che sono di gravità minima e altre che sono molto più gravi capite un omicidio è gravissimo la fornicazione dell'adulterio sono ancora gravi meno dell'omicidio magari però sono cose comunque molto gravi che potrebbero anche danneggiare completamente la tua reputazione addirittura la tua famiglia perché se tu commetti adulterio tua moglie ti può cacciare via ed è legittimata a farlo e quindi hai rovinato tutta la famiglia anche per un momento di piacere di immondizia è meglio quindi stare attenti bisogna quindi ricordarsi ogni giorno di pregare per affinché il Dio non ci esponga alla tentazione e che ci liberi dal maligno da tutte le sue macchinazioni che lui mette davanti affinché noi cadiamo in queste cose per quanto riguarda il non cadere in tentazione leggiamo anche nel Vangelo di Luca quanto è importante perché siccome il peccato alberga nella nostra carne noi siamo stati salvati in speranza siamo stati rigenerati spiritualmente ma nel nostro corpo che ancora debole e abita ancora il peccato nel nostro corpo per questo motivo noi siamo sempre soggetti a un combattimento continuo per poter per il dovere di dominare continuamente il peccato che alberga nella nostra carne tenerlo sempre soffocato affinché non gli diamo spazio e non gli diamo sfogo e questo è ricordato anche da Gesù quando era nel Gezzemani quando Gesù era nel Gezzemani la notte che fu arrestato pregava lui e insieme si portò con sé alcuni discepoli alcuni apostoli e pregava con loro e siccome non riuscirono però i suoi discepoli a pregare neanche un'ora riuscirono a pregare Gesù alla fine li esortava a pregare Gesù li esortava e gli disse queste parole al Vangelo 22 al versetto 45 e alzatosi dall'orazione venne ai discepoli e li trovò che dormivano che dormivano di tristezza e disse loro perché dormite alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione vedete quindi la preghiera oltre che pregare oltre che pregare per non entrare in tentazione affinché il maligno diciamo non ci faccia cadere nelle sue trappole già il fatto di mettersi a pregare questo fa in modo che ci rende più forti nell'affrontare tutte quelle nostre debolezze della carne perché la carne è debole lo spirito è pronto ma la carne è debole e noi dobbiamo perseverare nella preghiera per non cadere e non entrare in tentazione la preghiera cosa fa come abbiamo detto precedentemente la preghiera è entrare in comunione con Dio andare alla presenza di Dio alla presenza di Dio ci sono gioie a sazietà e si viene diciamo rafforzati spiritualmente e si è più forti nell'affrontare tutte quelle macchinazioni che il diavolo potrebbe metterci davanti per farci cadere si diventa più forti spiritualmente perché essendo in comunione con Dio sentiamo la sua presenza lo spirito santo il fuoco dello spirito santo e la sua presenza arde dentro di noi e ci guida maggiormente in ogni minimo dettaglio ci fa capire come muoverci e da cosa stare attenti e da cosa guardarci e questo può avvenire può avvenire se noi abbiamo una vita di preghiera se il credente ha una vita costante nella preghiera vuol dire che ha una vita costante di comunione con Dio sempre se lo fa con tutto il cuore nei modi nei modi corretti e se si santifica perché uno che vive nell'adulterio anche se si inginocchia a pregare Dio verrà ascoltato solo quella che chiederà di perdonare il suo peccato e di liberarlo da quel dominio quello verrà ascoltato ma se uno dice signore provvedimi da mangiare ma se sei adultero se sei un adultero come fa il signore a provvederti diciamo tutte le altre cose anzi ti riempirà di guai affinché tu comprenda che devi abbandonare il peccato ecco cosa farà il signore ti riempirà di tristezza e di sofferenza fino a quando tu non riconoscerai che devi abbandonare il peccato ma se uno vive nel peccato che cosa si può aspettare dal signore non si deve aspettare nulla perché non riceverà nulla il signore quindi alla sua presenza in preghiera ci aiuta ci fortifica ci sostiene nella nostra fede cresce la nostra esperienza con il signore con la presenza di dio cresce sempre di più e quindi siamo sempre diventiamo sempre più forti spiritualmente e il peccato riusciamo così per la grazia di dio riusciamo a governarlo il peccato che vorrebbe diciamo che abita nella nostra carne il peccato vorrebbe dominarci e farci camminare come piace a lui ma noi dobbiamo continuare a dominarlo dominarlo con la presenza di dio andando appunto in preghiera ora passiamo ad un'altra richiesta rimaniamo sempre nel vangelo di lucca e sappiamo che la messe è grande e il signore ha esortato siccome la messe è grande il signore gesù ha esortato i suoi discepoli a pregare affinché vengano mandati nella messe degli operai noi sappiamo che i fratelli sono tanti ad esempio attualmente la situazione qual è che molti fratelli sono usciti dalle comunità stanno creando altri piccoli gruppi o gruppi anche più grossi che si riuniscono nelle case in altri luoghi ecco adesso è il momento è il momento particolare in cui assume una notevole importanza questa richiesta che bisogna fare a Dio cioè siccome la messe è grande i santi sono tanti occorrono tanti operai che lavorano nel campo di Dio quindi come ha detto Gesù al capitolo 10 di lucca al versetto 2 e diceva loro bene la messe è grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il signore della messe che spinga degli operai nella sua messe quindi è una esortazione che Gesù ci fa un comando è un comando che Dio dà ai suoi discepoli di l'ordine di pregare affinché siccome la messe è grande e gli operai sono pochi di pregare affinché Dio mandi degli operai nella sua messe ogni gruppo in casa ogni gruppo di credenti sia provveduto di uomini di servitori di Dio che compiano la loro opera secondo in maniera fedele alla parola di Dio questo deve essere il nostro desiderio e la nostra richiesta fatta a Dio noi chiediamo quindi a Dio che Dio spinga degli operai che provveda ad ogni gruppo di credenti questi operai che devono ammaestrare guidare esortare anche sgridare quando è necessario i santi per mantenerli fermi nella fede sino alla fine per poterli guidare per poterli far giungere sino alla fine della corsa mantenendosi fermi nella fede c'è bisogno quindi di operai che la messe è grande e questa è un'altra richiesta da fare adesso passiamo ad altre richieste che si devono fare per i santi per tutti i santi e anche per i ministri per i ministri di Dio andiamo a leggere nella lettera di Efesini nella epistola che Paolo ha scritto agli Efesini al capitolo all'ultimo capitolo capitolo 6 al versetto al versetto 17 18 prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio operando in ogni tempo per lo spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi ed anche per me a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo per il quale io sono ambasciatore in catena affinché io l'annunzi francamente come conviene ch'io ne parli quindi vedete qui Paolo parla e dice sta parlando dell'armatura di Dio di quell'armatura che si deve indossare che si deve indossare per andare in guerra siamo in guerra contro il regno delle tenebre una guerra spirituale non materiale non fisica noi per i nostri nemici dobbiamo pregare affinché si siano salvati non dobbiamo uccidere la loro morte né la loro distruzione noi però siamo in guerra siamo in guerra contro il maligno contro i suoi spiriti contro i suoi servitori contro gli uomini malvagi siamo in guerra tra le cose che bisogna fare in prima linea innanzitutto dobbiamo sapere che ci sono i ministri di Dio coloro che annunziano la verità al popolo di Dio cercano di fortificarlo ma annunziano l'evangelo anche a coloro che non lo conoscono a Dio ecco qui l'apostolo Paolo tra le cose nella guerra che devono compiere i santi c'è quello di pregare per i servitori di Dio e chiedere appunto che di dare ai servitori di dare quella capacità quella forza quel coraggio di annunziare l'evangelo come si conviene secondo la volontà di Dio apertamente con pieno coraggio perché talvolta annunziare la verità può avere dei costi anche fino alla propria vita in certi luoghi in certe nazioni annunziare l'evangelo vuole dire morte certa carcere torture prigionia capite e quindi l'apostolo Paolo rivolto per lui ma anche per tutti i ministri che hanno incarichi nella chiesa è cosa buona che noi ce lo ricordiamo sempre di pregare per i ministri di Dio chiedendo specificamente che Dio li liberi da ogni male li preservi da ogni male ma anche gli dia quella forza quel coraggio quella sapienza quello di cui hanno bisogno per parlare apertamente e annunziare quello che devono annunziare tutto il consiglio di Dio al popolo di Dio e annunziare francamente l'evangelo a coloro che a coloro che non ancora non hanno conosciuto il Dio e questo è importante pregare anche per i ministri di Dio perché vedete se noi preghiamo per i ministri di Dio significa che noi li amiamo magari è uno ecco diciamo così è uno dei modi che noi abbiamo per manifestare che abbiamo questi questi nostri fratelli che servono il Signore in un certo modo quindi dobbiamo ricordarci di loro senza dimenticarci di loro questo concetto è comunque anche ribadito nella seconda epistola di Paolo ai tessalonicesi in cui dice in cui ha scritto queste parole al capitolo 3 di seconda tessalonicesi al versetto 1 dice del rimanente fratelli pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come tra voi e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi poiché non tutti hanno la fede vedete quindi Paolo l'Apostolo Paolo i servi di Dio i ministri di Dio tutti quelli che servono di Dio possono essere di qualsiasi genere anche non solo ministri ma tutti quelli che vogliono servire Dio talvolta si possono trovare in situazioni particolari e pericolose perché non avendo tutti la fede ed essendo malvagi quindi i credenti i santi i ministri i servitori di Dio hanno bisogno hanno bisogno della forza che viene da Dio per poter annunziare l'Evangelo per poter annunziare la verità tutto il consiglio di Dio che lo facciano con forza e con pienezza di convinzione però hanno anche bisogno di sentire che i fratelli pregano per loro hanno bisogno che Dio operi a pro di loro per esaudire le preghiere dei santi che chiedono che il Signore liberi i servitori di Dio da tutti quegli uomini malvagi e violenti perché badate bene servire Dio non è che gli altri reagiscono lealmente rispondano lealmente come facciamo noi con i nostri avversari noi dobbiamo essere leali con tutti con i fratelli con i nostri compagni con la nostra famiglia e con i nostri nemici sempre leali nella lotta ma non è così per i malvagi per gli uomini malvagi e violenti non è così loro vogliono il nostro male ci vogliono vedere distrutti completamente allora la nostra arma qual è non possiamo reagire non possiamo controbattere con il male allora cosa dobbiamo fare chiediamo preghiera ai santi che tutti i santi preghino per i servitori di Dio affinché siano liberati dagli uomini malvagi e violenti che vogliono il nostro male che vogliono il male dei santi che servono il Signore devono tutti pregare per queste cose è importante segnarsi queste cose quando voi vi mettete in preghiera ricordatevi queste cose anche che riguardano i ministri di Dio e i servitori di Dio perché ne hanno bisogno gli uomini di Dio hanno bisogno di preghiera dei santi di ogni singolo fratello semplice non importa che tipo di fratello sia appena convertito che non conosca nulla se prega il Signore per la benedizione di questi servitori di questi uomini di Dio il Signore li ascolta e li benedirà e li preserverà da ogni male e così è scritto e così bisogna fare e così dobbiamo fare tutti pregare per i servi di Dio adesso passiamo a un altro tipo particolare di richiesta che viene avversata da una parte dell'evangelismo italiano una parte dell'evangelismo italiano crede nel battesimo con lo Spirito Santo un'altra parte invece no un'altra parte si oppone fortemente ci sono i cessazionisti quelli che dicono che oggi non c'è più bisogno di parlare in altre lingue che Dio ha cessato di parlare in altre lingue che non è lo Spirito Santo che parla in altre lingue ma sono i demoni ecco tutto questo è falso non è assolutamente vero perché Dio ha stabilito ancora fino alla fine fino a quando il Signore non tornerà fino al momento in cui saremo perfetti dopo la risurrezione dei morti saremo perfetti il Signore ha stabilito che battezzerà con lo Spirito Santo e donerà i suoi doni spirituali a tutti coloro che lo domanderanno a quelli che lui avrà stabilito di donarli perché servono nella Chiesa sono utili per l'edificazione comune di tutta la Chiesa ora noi oggi ci concentriamo su adesso in questo in questo momento ci concentriamo sulla richiesta che bisogna fare a Dio per ricevere lo Spirito Santo perché uno dice vabbè la promessa dello Spirito Santo ci credo ma dove è scritto che bisogna pregare per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo perché questa è una domanda che possono farti i cessazionisti ma perché siccome non conoscono le scritture non conoscono neanche la potenza di Dio perché questo dobbiamo dire e non conoscono le scritture si vantano di dire che sono quelli che si vantano di conoscere le scritture ma in realtà non la conoscono non la conoscono e non conoscono neanche la potenza di Dio in Luca 11 dove Gesù parla appunto ancora della preghiera tra le varie cose che ci sono dette c'è scritto questo leggiamo dal capitolo 11 dal versetto 10 leggiamo dal versetto 10 poiché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia e chi è quel padre tra voi che se il figliolo gli chiede un pane gli dia una pietra o se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe oppure anche se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro padre celeste donerà lo spirito santo a coloro che glielo domandano ora qui si devono fare alcuni esami dei versetti ad esempio il rapporto questa preghiera può essere innalzata da coloro che sono già figlioli perché tu pregando il padre significa che sei figliolo se sei figliolo significa che sei già nato di nuovo se sei già nato di nuovo significa che una misura di spirito santo è già dentro di te quindi tu non stai chiedendo di ricevere lo spirito santo che ti salverà perché sei già salvato qui Gesù sta dicendo gli esortava i discepoli a chiedere di ricevere il battesimo con lo spirito santo a questo lui si riferisce e praticamente siccome i cessazionisti hanno una paura matta delle cose spirituali hanno paura e così hanno una paura più forte di loro se voi parlate li conoscete approfonditamente vedrete che molti magari non tutti ma molti di questi sono sinceri ma hanno una paura di tutte le cose spirituali o perché glielo hanno insegnate male o perché non le capiscono però hanno paura ma qui questi passaggi che abbiamo letto ci fanno capire che i santi quando chiedono qualcosa a Dio non devono temere di nulla non devono avere paura di nulla perché se noi chiediamo una cosa a Dio se noi chiediamo un uovo se noi chiediamo una cosa buona il Dio non farà passare una cosa malvagia da parte del maligno capite lo ha promesso lo ha detto non può mentire egli è Dio non può mentire lo ha detto se tu chiedi il battesimo con lo spirito santo sinceramente a Dio riceverai quello non riceverai nulla di male da Dio però gli uomini possono passare anche il male ma noi stiamo stiamo prendendo in esame la vera richiesta di una persona sincera di un credente sincero che avanza questa preghiera a Dio la chiede sinceramente quindi non si apre nessuna porta all'azione del maligno chiedendo queste cose perché questi sono i timori dei cessazionisti tu chiedendo quello chissà che cosa può arrivare cosa può arrivare se ha detto se Gesù ha detto che se voi che siete malvagi date buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro padre celeste donerà lo spirito santo a coloro che glielo domandano vedete quindi se noi diamo dei doni che sono buoni ai nostri figli e siamo già malvaggi tutti gli uomini sono malvaggi ma il Dio che non è malvagio ma è buono non può darci non può imbrogliarci noi chiediamo il battesimo con lo spirito santo il maligno si intromette e ci fa avere chissà che cosa il maligno nella nostra comunione con Dio quando siamo davanti al trono della grazia in preghiera non si può intromettere non gli è permesso non gli è concesso anzi deve scappare tutti gli spiriti quando noi siamo in preghiera stiamo invocando il Dio stiamo chiedendo a Dio si devono si nascondono non possono resistere capite e Dio questo lo ha promesso e così è dobbiamo avere piena fiducia in quello che è scritto non è che dobbiamo avere fiducia solo in quello che ci piace dobbiamo avere piena fiducia in tutto quello che è scritto nella parola di Dio e noi dobbiamo chiedere appunto di essere battezzati con lo spirito santo di essere riempiti con lo spirito santo perché il riempimento di spirito santo dà al credente una potenza per poter servire il signore per poter testimoniare con efficacia dell'evangelo capite quindi è importante il battesimo con lo spirito santo è utile per poter servire con potenza il signore questo è cioè non è che chi non ce l'ha non può servire però certamente se è ripieno di spirito santo il servizio deve essere più efficace porta più risultati non è che chi non è battezzato con lo spirito santo non porta risultati ne porta ma essere ripieni ne porta di più a se stessi e anche per l'opera che compie capite quindi bisogna desiderarlo ardentemente lo spirito santo per servire il signore perché uno che vuole servire il signore deve anche chiedere questo perché è una cosa buona ti serve per servire meglio il signore avere la potenza che ti serve e quindi non dobbiamo dare retta anzi dobbiamo far tacere questi cessazionisti che parlano contro queste cose chi invece è già battezzato con lo spirito santo non è che ha finito non è che ha ricevuto tutto ed è apposto così no ci sono i doni spirituali quindi qui andiamo in prima corinzi adesso prima corinzi al capitolo 12 e anche al capitolo 14 si parla dei doni perché i doni spirituali che lo spirito santo li distribuisce come egli vuole e la scrittura ci insegna che bisogna chiedere pregare anche per ricevere i doni spirituali non è che quindi vedete chi è stato battezzato con lo spirito santo non ha non ha finito di chiedere ma deve chiedere deve mantenere quello che ha l'unzione che ha e chiederne sempre di più chiedere appunto a Dio avanzare a Dio delle richieste affinché il signore distribuisca anche i suoi doni spirituali al capitolo 12 al capitolo 12 quindi di prima corinzi si parla dei doni si fa l'elenco dei doni mentre al capitolo 14 al capitolo 14 dovrei leggere tutto cerco qualche passaggio per stringere se no sono due capitoli due tre capitoli che bisognerebbe meditarli 12 13 14 di prima corinzi dove si parla dei doni spirituali come si devono come si manifestano e c'è scritto anche che bisogna pregare per riceverli ad esempio al versetto 12 31 è scritto ma desiderate ardentemente i doni maggiori dopo aver parlato dei doni l'apostolo paolo esorta i fratelli a desiderare i doni spirituali maggiori maggiori perché cosa non per dare gloria all'uomo i doni maggiori sono quelli che edificano maggiormente la chiesa perché l'obiettivo dei doni spirituali la manifestazione dello spirito viene data per edificare la chiesa quindi c'erano i corinzi ad esempio che chiedevano il dono spirituale della diversità di lingue cioè volevano tutti parlare in tante lingue ma chi parla in altre lingue edifica se stesso quindi non edifica la chiesa perché non edifica la chiesa perché la chiesa non intende quello che dice colui che parla in altre lingue quindi vero è che uno edifica se stesso parlando in altre lingue ma non edifica la chiesa ed ecco qui che paolo spiegando e chiarisce tutto ha spiegato tutto e chiarito tutto e ha esortato i corinzi a pregare per ricevere i doni maggiori i doni che edificano la chiesa infatti è confermato che dice specificamente a quelli che parlavano in altre lingue al 14 13 di prima corinzi dice dice così scrive così paolo perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare quindi chi parla in altre lingue deve pregare e Dio per ricevere il dono dell'interpretazione delle lingue quindi vedete è scritto ancora una volta che si devono chiedere i doni spirituali a Dio si devono desiderare si devono chiedere e bisogna aspettare che Dio li distribuisca quindi i doni è scritto che si possono desiderare e si possono chiedere bisogna farlo non è scritto tutto questo se uno lo vuole fare lo fa no bisogna che queste cose entrino normalmente nella preghiera nella preghiera che noi facciamo tutti i giorni affinché il Signore distribuisca i doni spirituali a ciascuno di noi a tutta la Chiesa affinché la Chiesa sia pienamente fornita di tutti quei doni necessari per la sua edificazione e questo è obbligatorio farlo bisogna mettere nella lista delle cose da chiedere a Dio anche queste cose non ce le dobbiamo dimenticare sono scritte affinché non siano dimenticate però purtroppo questo mi sembra di ho avvertito questo pericolo cioè che anche in ambito pentecostale ormai si stia cercando sempre meno io parlo delle Chiese ufficiali delle denominazioni delle Chiese ufficiali che tra le tante cose storte che abbiamo potuto sentire o dire da questi c'è anche questa che si sta affievolendo l'aspetto pentecostale delle comunità pentecostali appunto quindi tutto ciò che riguarda la ricerca del ricevere da Dio del battesimo con lo Spirito Santo dei doni spirituali delle guarigioni della potenza di Dio di tutte quelle cose che sono la potenza la potenza di Dio purtroppo gli altri si stanno dimenticando e qui anche questo è maggiore lavoro anche per noi qui noi comunque così è scritto e così noi lo annunciamo ai Santi affinché affinché preghino il Dio anche per queste cose e non se ne dimenticano in nessuna maniera che poi è Dio a distribuire i suoi doni spirituali il battesimo con lo Spirito Santo le sue guarigioni divine è Lui che li distribuisce come vuole a noi ci è dato di chiederle in preghiera quindi per noi è obbligatorio fare la nostra parte e Dio poi farà la sua noi facciamo la nostra con piena fede in Dio però sappiamo che tutte le cose verranno date all'uomo se sono secondo la volontà di Dio se è secondo la sua volontà egli ci esaudisce però noi a volte su molte cose non sappiamo quale sia la volontà di Dio e non sappiamo i tempi quindi dobbiamo obbedire comunque a quello che è scritto nella parola di Dio e dobbiamo dobbiamo chiedere queste cose che sono scritte perché questa è la volontà di Dio che noi le chiediamo poi vediamo quello che aspettiamo quello che il Signore opererà un'altra cosa di cui i credenti sono carenti e hanno bisogno è la sapienza e quindi una delle cose da mettere in conto nella lista delle preghiere delle cose da chiedere al Signore c'è anche la sapienza e questo ce lo dice Giacomo Giacomo al capitolo 1 dal versetto 5 dice scrive queste parole che se alcuno di voi manca di sapienza la chieda a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare e gli sarà donata vedete tutti noi abbiamo bisogno di sapienza chi ne ha già ricevuto ne ha bisogno di altra quindi dovrà sempre chiedere sapienza a Dio bisogna chiedere la sapienza perché la sapienza vi ricordate la sapienza di Salomone lui chiese la sapienza a Dio e Dio gli concesse la sapienza la sapienza che gli ha permesso di governare una nazione di amministrare la giustizia di prendere tante decisioni che ha preso alla gloria di Dio con la sapienza che Dio gli ha dato e così anche abbiamo visto la sapienza di Gesù nel rispondere ai suoi avversari ai sadducei ai farisei agli erodiani Gesù aveva sapienza e rispondeva sapienza ne avevano anche gli apostoli come anche ne avevano i profeti e noi desideriamo anche noi dobbiamo desiderare questa sapienza che viene da Dio perché è una sapienza cioè la sapienza è quella è una particolare tipo di conoscenza che viene da Dio che ci 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 dà la capacità di capire le cose non umanamente perché ci può essere una sapienza umana di capire le cose dal punto di vista di Dio capite quindi riusciamo a mettere insieme delle cose a capirle a interpretarle secondo il volere di Dio e non secondo il volere dell'uomo quindi è importante chiedere ogni giorno sapienza a Dio per poter capire prima di tutto ad esempio le scritture quando studiamo le scritture abbiamo bisogno della sapienza che viene da Dio se ad esempio dobbiamo scrivere qualcosa un fratello o dobbiamo scrivere un messaggio o dobbiamo portare una predicazione abbiamo bisogno della sapienza che viene da Dio non possiamo fare noi con la nostra intelligenza la nostra sapienza la nostra è una nostra sapienza intelligenza umana ma a noi ci serve ci è utile la sapienza che viene da Dio quella ci serve che ci aiuta a capire a capire le cose dal punto di vista di Dio e qui la scrittura Giacomo ci esorta a chiederla a Dio con piena fiducia bisogna chiederla se tu la chiedi la riceverai nella misura che Dio avrà stabilito però è scritto che tu la riceverai l'unica condizione qui che viene richiesta è che devi avere fede devi avere fede in Dio quella la devi avere sempre per tutte le cose fino alla fine però per chiedere in preghiera la sapienza devi avere fede perché se uno dubita in cuor suo non riceverà nulla non solo non riceverà la sapienza non riceverà nulla se dubita nel suo cuore quello che chiede a Dio quindi noi non dobbiamo dubitare dobbiamo avere piena fiducia in Dio pregare chiedere e aspettare con fiducia chiedere a Dio tutte quelle cose di cui abbiamo bisogno tra cui c'è la sapienza che è una cosa buona essere ripieni di sapienza perché così ci sappiamo muovere in tutte le cose secondo la volontà di Dio purtroppo ci sono casi che mi sono capitati proprio qui in mezzo alla chiesa in diverse tra di noi in certe circostanze che un caro fratello magari che ha ricevuto anche un dono di ministerio riceve rivelazioni da Dio ma è mancato di sapienza e ha prodotto dei danni quindi vedete una cosa è avere determinati doni un'altra cosa è avere sapienza bisogna anche avere sapienza non è che basta solo ricevere sogni e visioni da Dio bisogna anche avere la sapienza da Dio e quella siamo mancanti di tutti chi ne ha già qualcosa la deve comunque chiedere che cresca sempre di più chi ne ha poca che chieda a Dio e la riceverà la riceverà da Dio riceverà sapienza quindi è una cosa da desiderare e da chiedere ardentemente perché se c'è si farà presto vedere e si avvertirà si avvertirà i fratelli lo vedranno come parlerai come ti condurrai le risposte che darai le domande che tu farai si capirà se uno ha sapienza che viene da Dio non una sapienza carnale spirituale una sapienza carnale diabolica umana no una sapienza che viene da Dio si avverte quando c'è i fratelli se ne accorgono e questa era un'altra cosa vedete da segnarsi da domandare a Dio altre cose che devono essere chieste a Dio le leggiamo ad esempio le scrive l'Apostolo Paolo a Timotio gli dice queste parole gli scrive queste parole al capitolo 2 di prima Timotio capitolo 2 i primi versetti io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni preghiere intercessioni ringraziamenti per tutti gli uomini per il re e per tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro salvatore quindi vedete qui Paolo scrive a Timotio glielo scrive affinché lo faccia a lui ma lo scrive anche perché lui doveva mettere ordine alle cose da fare a Efeso e quindi Paolo scrive a Timotio e Timotio lo avrebbe dovuto insegnare ai credenti di Efeso quindi quello che voglio fare ancora io oggi voglio ricordarvi quello che Paolo sta facendo con me me lo sta ricordando attraverso le sue scritture io voglio ricordarlo anche a voi affinché anche voi vi mettiate a pregare per tutti gli uomini e anche per le autorità per le autorità perché l'obiettivo di pregare l'autorità qui ci dice anche lo scopo qual è lo scopo di pregare per l'autorità è quella di vivere una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà quindi se noi vogliamo vivere una vita tranquilla dobbiamo pregare anche per le autorità noi desideriamo che ci sia un ordine che i malfattori vengano diciamo presi fermati bloccati e vogliamo anche che ci sia che le autorità siano benedette preservate da ogni male e abbiano anche quella sapienza per ministrare la giustizia e anche per capire chi sono i nemici dello Stato che non siamo certamente noi credenti che ci esortiamo gli uni e gli altri a pagare tutte le tasse a obbedire a tutti gli ordini che non contravvengono però la parola di Dio a osservare tutti quei regolamenti statuti ordini che ci sono nella legge umana li dobbiamo osservare con il limite solo il limite che è per dire se una legge ci vieta di annunziare l'Evangelo non possiamo osservarla però tutto il resto lo dobbiamo osservare non dobbiamo fare del male a nessuno né rubare pagare tutte le tasse che dobbiamo pagare allo Stato quindi noi dobbiamo essere anche buoni cittadini noi ci opponiamo solamente perché siccome è meglio obbedire a Dio che agli uomini l'unico nostro limite è quello quando i regolamenti e gli statuti che vengono dati dallo Stato operano contro l'Evangelo contro la parola di Dio contro i comandamenti che Dio ci ha dato allora noi se dobbiamo scegliere dobbiamo sempre obbedire a Dio anziché agli uomini però non è il caso ad esempio siamo liberi qui in questa nazione fino ad oggi siamo liberi quindi per adesso dobbiamo pregare che il Signore benedica grandemente le autorità li preservi da ogni male e li aiuti gli dia anche a loro sapienza per ministrare la giustizia rettamente con dirittura e rettitudine e così se l'ordine è mantenuto e che le leggi che escono fuori non siano leggi contrarie alla Chiesa e alla parola di Dio se noi preghiamo ecco che riusciamo a vivere una vita tranquilla è pacifico e quindi dobbiamo farlo perché non è che non è che dobbiamo perché dopo quando verrà una sorta di dittatura che impedirà la nostra vita normale da credenti da cristiani che dovremo pregare allora finché il Signore li debba bloccare ecco prima di arrivare o li debba sostituire questi governanti no questi dittatori ora prima di arrivare a ciò abbiamo la possibilità di cominciare a pregare adesso per queste autorità che abbiamo affinché per le forze dell'ordine per i magistrati per coloro che legiferano per il Parlamento capite per quelli che decidono le cose commerciali della nazione quindi vedete c'è anche bisogno di pregare affinché l'economia della nazione possa andare in un certo verso affinché ci sia lavoro per tutti vedete per noi per i nostri figli per tutti per tutti perché ci fa anche male sentire che quello ha perso il lavoro non ha di che sfamare la famiglia tutte queste cose ce le dobbiamo ricordare in preghiera poi Dio farà secondo la sua volontà ma la volontà di Dio accettevole e buona è quella che noi preghiamo per le autorità che noi preghiamo per tutti gli uomini tra cui le autorità è un ordine non è una cosa che uno se si ricorda lo fa no lo devi fare sono qui io a ricordartelo perché Timoteo lo ricorda a me scusate Paolo lo ricorda a me attraverso l'epistola a Timoteo e io lo voglio ricordare a voi e voi lo ricorderete ogni volta che leggete questi passi bisogna ricordarselo insegnarselo che bisogna pregare per le autorità sempre un'altra cosa un'altra cosa che bisogna ricordarsi di fare è di pregare per la chiesa perseguitata perché talvolta ci sono quelle autorità come ho accennato delle autorità in una nazione che perseguitano che perseguitano la chiesa e qui la scrittura ci esorta ci comanda di pregare di pregare per la chiesa perseguitata a capitolo 13 della lettera agli ebrei capitolo 13 al versetto 3 sta scritto ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro di quelli che sono maltrattati ricordando che anche voi siete nel corpo vedete qui non solo è ricordato di pregare per quelli che soffrono nella chiesa di cristo ma ci dice anche con quale stato d'animo lo dobbiamo fare dobbiamo farlo come se fossimo in carcere con loro come se noi fossimo sofferenti con loro come se anche noi siamo torturati con loro siamo incarcerati siamo messi a morte questo è lo stato d'animo lo spirito che dobbiamo avere quando preghiamo per la chiesa perseguitata perché la chiesa perseguitata fa parte del corpo di cristo come facciamo parte noi quindi se un membro soffre tutti i membri devono soffrire capite questo vuol dire essere uniti questo vuol dire far parte di un corpo solo vuol dire questo che quando un membro gioisce tutti gioiscono quando un membro soffre tutti soffrono quindi immaginatevi voi se molti membri soffrono gli altri membri sono chiamati a soffrire con loro a soffrire spiritualmente con il cuore e a mettersi in preghiera in ginocchio faccia a terra a gridare a Dio a dire signore libera la tua chiesa perseguitata libera i tuoi figlioli che sono carcerati liberali da ogni male e bisogna farlo con tutto il cuore non è che bisogna solo farlo ma farlo anche con tutto il cuore perché oggi tocca a loro domani non si sa toccherà a noi altri dovranno pregare per noi quindi oggi la situazione per noi è questa e dobbiamo assolvere ai nostri doveri come scritto nella parola i nostri doveri sono quelli di pregare per la chiesa perseguitata senza dimenticarcene mai poi domani si vedrà adesso ci tocca fare questo ma non solo dobbiamo pregare per la chiesa perseguitata Gesù ci insegna che dobbiamo pregare anche per i persecutori e questa è una differenza enorme con tutte le altre religioni ad esempio con i musulmani noi non odiamo i nostri nemici quelli che ci perseguitano noi non dobbiamo fare del male o desiderare che gli accada del male quello che dobbiamo fare noi per i persecutori per quelli che perseguitano la chiesa o che perseguiteranno noi o che ci perseguitano ancora oggi non è detto che alcuni ci perseguitano dobbiamo pregare affinché il signore li salvi e gli faccia capire le cose e siano così salvati che quindi cessino di perseguitarci di perseguitare la chiesa e questo lo dice nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 al versetto 43 dice voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figlioli del padre vostro che è nei cieli poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti se infatti amate quelli che vi amano che premio ne avete non fanno anche i pubblicani lo stesso e se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli che fate di singolare non fanno anche i pagani altrettanto voi dunque siate perfetti com'è perfetto il padre vostro celeste questo di pregare per le persone che ci perseguitano è indice di maturità di crescita di perfezione vuol dire che si tende alla perfezione vedete perché è una delle cose più difficili cioè pregare amare quelli che ti perseguitano è tra le cose più difficili che il credente deve fare però vedete deve farlo è comandato deve pregare per quelli che il credente deve pregare per quelli che lo perseguitano lo deve fare deve imparare ad amarli questo è raggiungere un certo livello di perfezione così si arriva ad assomigliare il più possibile a Gesù Cristo che questo è tra i comandamenti più difficili da praticare però vedete quando noi diciamo di essere dei fondamentalisti cristiani anche questo è parte del fondamento della parola di Dio a cui noi ci atteniamo quindi noi non siamo fondamentalisti pericolosi come altre religioni che fanno del male ai loro nemici no il nostro fondamentalismo ci insegna e ci dice ci ordina di pregare per quelli che ci vogliono male ci perseguitano e dobbiamo amare i nostri nemici questo quindi noi siamo fondamentalisti ma solo nei principi non siamo assolutamente pericolosi per la vita o le persone degli altri perché i nostri nemici ci tacciano come pericolosi fondamentalisti alla pari dei musulmani violenti ma non ciò non è assolutamente vero e non è possibile perché il vero cristiano che si attiene ai fondamenti che ha insegnato Gesù Cristo e quelle che abbiamo letto appena adesso sono parole pronunciate da Gesù per la sua chiesa che deve mettere in pratica anche queste parole per arrivare ad essere perfetti amare i propri nemici e pregare per quelli che ci perseguitano queste sono delle cose che bisogna fare quindi ognuno di noi ha delle persone che lo perseguitano che lo offendono che ti attaccano al lavoro vicini di casa parenti amici fratelli mogli mariti magari che non sono d'accordo con quello che facciamo ci perseguitano ci attaccano ebbene sappiate che dovete pregare per loro dovete amarli perché sono nell'errore bisogna amarli bisogna desiderare che Dio li converta alla verità e dobbiamo pregare per loro non dobbiamo odiarli il credente non deve avere nessun sentimento ostile odio contro nessuno non è facile certamente perché se uno ti sta dando degli schiaffi la reazione naturale normale sarebbe quella di reagire o di almeno di provare un sentimento di odio nei suoi confronti e invece no devi imparare ad amare anche chi ti perseguita e devi pregare per quelli che devi pregare per chi ti perseguita e amare i tuoi nemici è questo che farà la differenza capite questa testimonianza fa la differenza con moltissime religioni con moltissimi e queste parole bisogna ricordarle sempre e non perdere mai occasione di citarle e di dire quello che noi siamo e quello in cui crediamo tra cui queste parole perché ci distinguono tra tutti gli altri sono parole molto potenti infatti alcuni musulmani sono rimasti colpiti molto colpiti da queste parole purtroppo l'islam è una religione un po' violenta magari non tutti sono violenti come quelli che si fanno saltare in aria ma è tendenzialmente violenta perché così viene spiegato nel corano anche verso loro stessi e anche verso le loro stesse famiglie verso le mogli gli uomini verso le donne insomma c'è un po' di di violenza un po' di viene si coltiva l'odio comunque verso qualcuno vicino e lontano in quella religione cosa che invece il cristianesimo abbiamo letto assolutamente ordina di amare i propri nemici e di pregare per quelli che ti perseguitano quindi il cristianesimo in questo punto è diverso molto diverso da tutte le altre religioni un'altra cosa un altro elemento da ricordare nelle nostre preghiere è quella che quando si vede un fratello commettere un peccato lo si vede oppure lo si viene a sapere o comunque si vuole quindi del bene al fratello la scrittura ci insegna che dobbiamo pregare per il fratello che ha peccato per il determinato peccato che ha commesso quel fratello affinché affinché il signore lo perdoni lo purifichi e lo faccia cessare da commettere quel peccato se è un peccato che lo commette costantemente la scrittura ci insegna che dobbiamo pregare anche per questo e lo dice nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5 al versetto 16 leggiamo dal 16 se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte pregherà e Dio gli darà la vita vedete naturalmente qui doveva metterlo doveva specificarlo Giovanni perché l'unico peccato per cui un fratello per cui non si deve pregare per il fratello è se ha commesso il peccato che mena morte perché questo perché è inutile pregare per uno che ha commesso il peccato che mena morte è del tutto inutile è vietato anche dalla scrittura perché è inutile la volontà di Dio è quella che quella persona vada in perdizione se noi lo sappiamo questo se lo veniamo a sapere lo comprendiamo lo sappiamo è inutile pregare per quella persona quindi l'unico peccato per cui se vediamo un fratello commettere il peccato l'unico l'unico peccato per cui non lo dobbiamo fare è il peccato che mena morte che quel peccato che comunque quel credente che l'ha commesso lo mena in perdizione questo peccato è il rinnegare Cristo perché se ha rinnegato Cristo non c'è per lui più perdono dei peccati quindi è inutile pregare che Dio gli perdoni i peccati perché non gli sarà perdonato e questa è una cosa certa assoluta però vedete per tutti gli altri per tutti gli altri qui la scrittura ci esorta se tu sai che il fratello sta sbagliando che il fratello ha commesso un determinato peccato se si può anche riprendere perché è scritto la somma della parola verità quindi è scritto anche che noi dobbiamo riprendere il fratello e esortarlo ad abbandonare il peccato però non c'è solo il fatto che noi dobbiamo riprendere il fratello c'è scritto anche che dobbiamo pregare per il fratello che abbiamo saputo visto che ha commesso dei peccati dobbiamo pregare e quindi dobbiamo mettere nella lista delle nostre preghiere anche quelle quella parte quei credenti che sappiamo stanno sbagliando e vogliamo che il Signore li perdone e li faccia rientrare in se stessi immaginate i fratelli che si sono sviati dalla verità i fratelli che si trovano dominati da qualche peccato noi cioè li riprendiamo sì una volta ma mica li puoi riprendere tutti i giorni se quelli sono dominati da un certo tipo di peccato che ne so sono fissi non riescono ad abbandonare certi peccati come guardare la televisione o andare al mare o fare altre cose del genere noi una volta che glielo hai detto non è che glielo puoi dire tutti i giorni glielo hai detto hai fatto bene e quindi devi pregare affinché affinché siano liberati rientrino in se stessi e siano liberati da ciò che li domina dobbiamo pregare quindi per i nostri fratelli per queste cose vedete dunque anche questa è una cosa da mettere nella lista delle nostre preghiere non ci dobbiamo dimenticare di chiedere di pregare anche per questo tipo questi tipi di fratelli che si sono trovati si trovano nel peccato e voglio concludere con un argomento che tra i più interessanti e che toccano di più la chiesa che è praticamente la guarigione dalle infermità un'altra preghiera e non ci dobbiamo dimenticare perché Dio ha stabilito che ha stabilito diversi modi per far ricevere la guarigione a chi ne ha la necessità ad esempio ha distribuito i doni spirituali delle guarigioni se uno ha il dono delle guarigioni lui o prega il padre e la guarigione avviene sempre secondo la volontà di Dio anche attraverso ad esempio l'imposizione delle mani ci può essere una guarigione di solito chi ha il dono delle guarigioni può imporre le mani a colui che è malato e questo guarisce ma non c'è soltanto questo modo per essere guariti o per volere la guarigione di qualcuno non per forza deve essere per noi stessi anche la guarigione degli altri il Dio ha stabilito anche che per le malattie per le guarigioni si può anche pregare pregare per ottenere la guarigione semplicemente la preghiera infatti leggiamo queste parole che ha scritto Giacomo al capitolo 5 dal versetto 13 leggiamo queste cose che riguardano la guarigione e anche altre cose ma noi ci interessa dal punto di vista della guarigione c'è fra voi qualcuno che soffre preghi c'è qualcuno Dani Mollietto salmeggi c'è qualcuno fra voi infermo chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui un gendolo d'olio nel nome del Signore e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se egli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi confessate dunque i falli gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia quindi vedete uno dei modi quando uno si trova malato infermo uno dei modi una delle cose che può fare questo malato è chiamare gli anziani della chiesa i quali lo ungono d'olio e è scritto che la preghiera della fede quindi la preghiera fatta con fede che è anche efficace lo ristabilirà verrà ristabilito verrà ristabilito per quanto riguarda ad esempio se la malattia era dovuta a eventuali peccati commessi e Dio lo ristabilirà e se ha commesso dei peccati gli saranno rimessi sì perché talvolta delle malattie sono causate le malattie possono colpire una persona o perché ha peccato o perché o perché è una prova quindi quando quando è una prova il Signore prega e quando il Signore stabilirà che la prova debba cessare poi cesserà e sarà guarito come è successo per Giobbe vi ricordate Giobbe che per lui tutte le sue malattie erano una prova però ci sono anche di quelli che sono malati a cagione del peccato che hanno commesso ecco per questi si deve pregare anche per la guarigione di questi e se hanno commesso dei peccati gli saranno rimessi sì perché se non gli vengono rimessi i peccati non può essere neanche guarito perché se la malattia è dovuta al peccato finché il peccato non è rimosso non è stato rimesso non può essere guarito prima ci vuole il perdono dei peccati naturalmente se ad esempio è stato colpito dalla malattia perché è un adultero e prima di tutto prima di essere rimesso il peccato deve capire che sta sbagliando e deve ravvedersi pentirsi e deve impegnarsi a non commettere più adulterio quindi questo è fondamentale magari uno va a pregare a casa di un fratello che è malato e non viene guarito e non capisce perché ma come abbiamo pregato con fede però non viene guarito lo stesso bisogna vedere lì tante sfaccettature che solo il Signore magari sa ad esempio può essere che quello il peccato non lo vuole rimuovere da sé e quindi se non vuole non vuole rinunciare al suo adulterio alla sua fornicazione ad altre cose di male che fa se non vuole rinunciare non sarà neanche neanche guarito e questo è chiaro quindi hai voglia te che andiamo lì a pregare per lui oppure faccio un altro esempio se la prova deve durare un anno due anni tre anni per tutti questi tre anni noi pregheremo lo stesso per la sua guarigione ma fino a quando non finisce il tempo della prova di quella guarigione di quella di quella malattia questo questi non sarà non sarà guarito vedi Giobbe Giobbe è stato guarito quando è venuto il momento opportuno che Dio lo guarisse e così è avvenuto e così avviene ancora oggi perché quello che è scritto per là dietro è stato scritto per nostro ammaestramento e questo era fratelli e sorelle nel Signore questo era il messaggio che volevo darvi quest'oggi affinché voi allunghiate la vostra lista delle preghiere da fare così avete altri elementi per cui pregare altri soggetti di preghiera che sono comunque cose buone davanti a Dio alcune sono sicuro che le conoscete le conoscevate già altre altre magari vi sono risultate nuove però ci sono ci sono anche anche quelle e questo era quello che volevo comunicarvi quest'oggi a Dio siano la gloria l'onore la lode nei secoli dei secoli amén